Per voi, chiamate il buon vino, l'Enoteca Roudini si trasferisce in via Siracusa 20 e diventa non solo l'Enoteca, ma anche pizzicheria, per offrirvi l'armonia dei sapori. Presso l'Enoteca Pizzicheria Roudini potrete gustare i migliori salumi levoni e i più pregiati formaggi, come il particolare perquerino barricato al nero d'avola Roudini. Inoltre, l'Enoteca Pizzicheria Roudini mette a vostra disposizione i vini più ricercati, come nero d'avola e l'oro doc, moscato di noto doc barocchè, oltre alla vasta gamma di bottiglie e vino spuso per soddisfare il palato di tutte le tasche. L'Enoteca Pizzicheria Roudini vi aspetta in via Siracusa 20, per guidarvi in un assaggio enogastronomico relazionato da un esperto. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, Saro a 8 euro, Chardonnay a 5,50 euro, Moscato di Noto a 7,50 euro.